Napoli-Inter, partita di ieri di Serie A 3 dicembre 2023, è finita con la sconfitta del Napoli e con la conseguente vittoria dell'Inter sul Napoli. I gol fatti dall'Inter vediamo nel dettaglio e poi soffermiamoci nelle relative statistiche. Il primo è di Karanoglu che la mette dentro, poi ci pensa Barella, Nicola Barella ed infine Marcus Turam. I tre gol giungono uno nel primo tempo, gli ultimi due nel secondo tempo. Nonostante la vittoria dell'Inter sul Napoli, che vi ricordo che ho giocato in casa, quindi in Campania, l'Inter ha delle statistiche negative, inferiori, molto inferiori rispetto al Napoli. Quindi diciamo così che a livello statistico il Napoli gioca meglio rispetto all'Inter. Abbiamo molto più possesso palla, una marea di passaggi in più e una previsione dei passaggi lievemente più elevata. L'Inter invece era di meno. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione, mi ricordo di iscrivervi al canale, del narratore italiano, commentare e farmi sapere cosa ne pensate. Ciao a tutti, al prossimo video e complimenti all'Inter.